Tornare a Montevergine è per me motivo di vera gioia. Ho infatti ancora vivo nell'animo il ricordo della visita che ho compiuto nel settembre di due anni fa. Quel viaggio mi consentì di conoscere e ammirare la robusta bellezza del santuario e dell'abbazia, l'incanto della natura, della bella Irpinia, che oggi ho ancora meglio potuto gustare salendo in funicolare, la genuina ed autentica devozione mariana di questo popolo. Ora sono tornato, inviato dal Santo Padre Francesco, quale suo legato, per una circostanza che è particolarmente sentita dai benedettini che custodiscono questo celebre santuario, le solenni celebrazioni per i nove secoli da quando, ad opera di San Guglielmo di Vercelli, nella festa di Pentecoste del lontano 1124, venne fondata l'abbazia. In questa giornata sono accompagnato da una missione pontificia costituita dall'abate Mauro di Subiaco e dall'abate Diego di Monte Oliveto, proprio per celebrare con la città di Mercogliano, con l'Irpinia e con tutti i fedeli e i devoti del santuario l'inizio di quest'anno giubiliare virginiano. Vi ringraziamo per la vostra premura e la vostra gentile accoglienza. Rivolgo il mio saluto a lei, signor Sindaco, e la ringrazio per le parole con le quali mi ha dato il benvenuto e per l'onore che mi rende consegnandomi le chiavi della città di Mercogliano. Sono altresì grato al Consiglio Comunale di aver deliberato all'unanimità di conferirmi in questa giornata solenne la cittadinanza onoraria della vostra città che tanto mi onora. Ma c'è un pericolo nel consegnare la chiave a qualcuno che può entrare in qualsiasi momento in casa. Ed allora questo è un po' un rischio, no? Però io so che in qualunque tempo, in qualunque modo, entrerò in questa vostra casa e sarò sempre ben accolto. Perché ho potuto sperimentare nelle occasioni, nelle varie occasioni in cui sono venuto in Campania, come ricordava il signor Presidente della Regione, tanta accoglienza, tanta simpatia, e questi sentimenti e questi atteggiamenti li ho potuto sperimentare anche qui a Mercogliano e al Santuario di Montevergine. Saluto tutti voi autorità qui presenti che nei rispettivi posti di alta responsabilità spendete le vostre energie per assicurare il buon funzionamento delle varie strutture su cui si regge la vita della città e dell'intera Regione. La devozione verso la Madonna di Montevergine, che è andata crescendo in me in questi anni, oggi viene rafforzata da questo nobile attestato. Appartenendo anche ufficialmente al popolo di Mercogliano, mi sento ancora più legato da vincoli di affetto al Santuario e alla sua Abbazia. Mi si è consentito di rivolgere pure un saluto ai membri dell'eccellentissimo corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede che hanno voluto essere qui oggi con gesto di filiale affetto verso la Madre di Dio. Essi rappresentano quei paesi del mondo che hanno accolto, soprattutto all'inizio del secolo scorso, numerose famiglie di campani e di altri emigranti dal meridione d'Italia, perfettamente integrati nelle rispettive nazioni, insieme al loro genio e alla loro generosa laboriosità, quasi a loro presidio e a tutela del benessere personale comunitario, hanno voluto fortemente portarvi e radicarvi la devozione alla Madonna Bruna, manifestando il loro filiale amore e il loro sincero attaccamento con la costruzione di chiese, cappelle ed edicole. La storia ci ricorda che la magnifica icona che da secoli raccoglie le speranze e le angosce, le lacrime e le gioie di migliaia di pellegrini fu un omaggio della famiglia reale angioina di Napoli alla comunità dei monaci, premuroso segno di attenzione e di affetto verso le popolazioni che qui vivevano. Il pensiero del passato, delle sue ricchezze spirituali e culturali e delle sue alterne vicende non ci deve far certo dimenticare i problemi del presente. Faccio riferimento in particolare alle varie fasce della popolazione di quest'area e della regione che vivono momenti di apprensione per la precarietà della condizione presente, soprattutto in campo occupazionale. Confido che i responsabili sappiano trovare le soluzioni adatte per ovviare ad una situazione che tanto ci preoccupa tutti. E sappiate che il Santo Padre Francesco vi è vicino con l'affetto e con la preghiera come segno della presenza consolatrice di Cristo e dell'attenzione della Chiesa, la quale è sempre accanto a chi è nell'angustia per incoraggiare nel presente e sostenere la speranza in un futuro più sereno. Signori Ministri, Signor Sindaco, Fratelli e Sorelle, Mercaglionesi tutti, da nuovo cittadino di questo bel municipio d'ora in poi avrete un posto speciale nei miei affetti e vi prometto per quanto mi sarà possibile di intensificare questo legame. Diamo inizio alle celebrazioni di questa giornata pregando con fede e guardando con amore alla Madonna di Montevergine, la nostra mamma schiavona, colei che tutto concede e tutto perdona. Grazie.